Tragico incidente stradale mortale avvenuto poco prima delle 8 lungo la bonifica del Salinello. Un giovane di 22 anni ha infatti perso la vita in seguito allo schianto di un'automobile contro un albero. In gravi condizioni il conducente, un ragazzo di 23 anni. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nareto. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 8, bonifica del Salinello, nel comune di Sant'Omero. Una Fiat Panda con a bordo il conducente e un passeggero si è schiantata infatti contro un albero, come potete vedere anche dalle foto. L'auto che percorreva la strada provinciale in direzione Monti è uscita di strada terminando la corsa contro un albero a pochi metri dalla carreggiata. A causa del violento impatto il passeggero, un ragazzo di 22 anni, è deceduto. Il conducente di 23 anni è rimasto incastrato invece all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare l'accesoia e il divaricatore idraulici per liberarlo dalle lamiere contorte. A causa delle contusioni e dei traumi riportati, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Teramo dove è giunto con un'ambulanza del 118. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per portare soccorso all'infortunato e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba Adriatica e Nereto per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell'incidente.